Let's go! Bene ragazzi, oggi ci saranno due video, ci sarà un vlog in questo caso, che è quello che state vedendo ora, ci sarà un altro video più tardi. Per quanto riguarda i vincitori dello scuffo e della control freak che mi state chiedendo, devo scalare il video a domani per forza. Quindi domani avrete un video dove vi spiegherò chi sono il vincitore dello scuffo e che mi devi dare i suoi indirizzo, e l'altro ovviamente chi sono i tre vincitori della control freak. Comunque ragazzi, voglio fare questo vlog per una motivazione, perché molti di voi che mi seguite qua su YouTube magari non state attenti sui social, non seguite magari Twitter, quello che scrivo o la pagina Facebook. In questo caso voglio dirvi una cosa, per prima cosa ci vedremo da sabato e domenica, quindi domani, sabato e domenica al Romics, all'hostel Razer e Asus, quindi mi potete trovare là, infatti ho già le buffie pronte. Quindi ci vedremo sicuramente al Romics, mi raccomando venite in tanti, ci sarà pure penso dei giveaway che forse faranno lì quelli della Razer, quindi ci saranno un pochino di cose da fare carine. Quindi spero che verrete in tanti, quindi a vedere al Romics, tra l'altro ragazzi ci sarà pure l'Amalaganto, codice sconto, ci sarà anche alla fiera, quindi sicuramente passate anche da lui in questo caso. Un'altra cosa poi ragazzi è che sarò il prossimo fine settimana al Torino Comics, quindi alla fiera di Torino, quindi ci sarà anche la LAN di Competitive con i settaggi della Code World League, dove ci saranno ben 16 team italiani, se non sbaglio, sono tantissimi comunque, quindi sono molto contento di questa cosa e sarò lì. Ovviamente però come influencer in questo caso, non sarò lì per giocare, sfortunatamente, non avendo un team, non sono lì per commentare o altre cose perché non ci sarà la streaming, ma sarò là come influencer allo stand del Good Game, che mi ha dato questa possibilità di andare a Torino perché comunque non era nei miei piani, dato che ho molte cose da fare in queste settimane. L'ultima cosa ragazzi che voglio dirvi è che ieri sono stato a un evento super segreto, che ora posso dirlo. Sono stato all'evento di Overwatch, un evento di anteprima Overwatch italiana su console. Ho registrato dei video lì, siamo stati lì, c'era Ivan, ci stava Lama, ci stava Midino con il padre, ci stava Panic, Yuri Polverino, quindi c'erano un sacco di persone che conosco. Ragazzi, provare Overwatch su console è stato bellissimo, l'evento bellissimo, tra l'altro è un evento senza rimborso niente, ho dovuto pagare di tasca mia per andarci e ci sono voluto andare perché io sono un fan della Blizzard, ho sempre amato la Blizzard, i loro giochi, questo è il loro primo FPS che fanno. E devo dire che l'impatto che ho avuto non me l'aspettavo che fosse fatto così bene sul console, mi aspettavo che sarebbe stata una mezza ciofeca. Ma vi racconterò questo poi in un video riguardante i propri Overwatch, perché è un gioco che voglio portare, a cui giocherò sicuramente, che potrebbe sicuramente, diciamo, scendere al competitive in questo caso. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, vi ho spiegato quindi per il giveaway dello SCAF e dei 3 Control Freak, domani ci sarà il video con i vincitori, oltre a questo mi troverete al Romics, allo stand Razer e Asus, poi ci vedremo al Torino Games Week, allo stand The Liquid Gaming, e poi, beh, l'evento di Overwatch segreto a cui sono stato, in cui vi parlerò in un video. Spero vi sia piaciuto questa sorta di video in cui vi ho dato un pochino di introduzioni per quelli che saranno i prossimi video a venire. Io vi saluto, bitch. No, fuck. Vi saluto. Let's go!